Improvvisa è avvenuta quando? Quando è che tu un giorno hai deciso che volevi diventare una pornostar? In realtà è un desiderio che io ho sempre coltivato perché ho sempre avuto una sessualità molto aperta che non ho mai nascosto quindi pensavo che questa sessualità potessi viverla diversamente ma che soprattutto la mia sessualità potesse servire anche per produrre delle immagini e dare del piacere ad altri.